Gara piacevole al Dei Marsi dove nell'ultimo amichevole precampionato della stagione il Pescara supera l'Avezzano di misura grazie ad una rete realizzata in apertura al sesto da Del Sole. Biancazzurri in campo con il solito 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Crescenzi e Lizalde per Rotta e Mazzotta sulle fasce, Carraro centrale di centrocampo con Brugman e Palazzi Larghi e Del Sole, Gans e Latte Latte in avanti. Nell'Avezzano assente il bomber Branicic, il neotecnico Federico Giampaolo opta per un 4-3-1-2 al sesto, pronti via i Biancazzurri sono già in gol con Del Sole che in area marsicana dopo una bella finta supera con un perfetto rasoterra il portiere Fanti per il 18enne attaccante pescarese. Prosegue così il momento favorevole dopo la doppietta realizzata in Coppa Italia al Rigamonti di Brescia. I Biancazzurri in buone condizioni fisiche fanno intravedere qualche discreta trama di gioco anche se al 17esimo una disattenzione difensiva per poco non permette all'Avezzano di far male al Pescara con Guerra che viene però anticipato in uscita con i piedi da Pigliacelli. Alla mezz'ora ottima giocata di Brugman e pallone per Gans che però sbaglia sotto rete. Il Gran Caldo condizione 22 in campo. Al 32esimo l'ex veronese ci riprova in girata con Fanti che alza in calcio d'angolo. Ancora Gans sfortunato protagonista al 37esimo quando sul lancio illuminante di Del Sole trova ancora la respinta del portiere avezzanese. Nella ripresa Zeman cambia 9 undicesimi di squadra con Capone che sale in cattedra. Al 15esimo si vede proprio l'ex Atalantino che in area tira sopra la traversa dopo un perfetto servizio di Pettinari. Il Pescara della ripresa sembra più squadra con la manovra più fluida. I Biancazzurri si lasciano preferire da segnalare al 28esimo il doppio passo con conclusione di Pettinari su cui salva Lombardi. Dalla parte opposta si fa apprezzare invece a Catullo che dopo una bella giocata alza però troppo la mira. Al 43esimo Pettinari fallisce davanti a Lombardi il 2-0 prima del triplice fischio finale di Fiore di Cassino. Si finisce con la vittoria dei Biancazzurri per 1-0 con il pensiero che a dieci giorni dall'avvio del torneo va inevitabilmente alla gara del 27 agosto con il Foggia allo Stadio Adriatico.